ha l'ambizione di rilanciare quel programma riuscito dell'anno passato, di rafforzarlo e soprattutto di regalare ai forgiani un momento di felicità e di sorriso. L'estate a Foggia come sappiamo è sempre stata un'estate calda che molte volte non ha consentito tanta gente che vive un momento di disagio economico di potersi permettersi di andare in vacanza e quindi dobbiamo avere un occhio attento a questa sacca di foggiani che non si possono permettere le vacanze come invece tanti altri famiglie foggiane nel passato potevano permettersi di mandare i propri figli al mare in vacanza. Quindi dobbiamo intensificare il programma del Foggia Estate proprio per soddisfare questo disagio o meglio colmare con attività, iniziative, artistiche colmare quel disagio che viviamo ogni giorno e che durante il periodo estivo aumenta ancora di più. Io lascerò immediatamente la parola per spiegare nel dettaglio il programma sia all'assessore Anna Paola Giuliani per il meritevole lavoro che ha svolto e che continua a svolgere nel settore della cultura congiuntamente devo ringraziare anche il presidente della Commissione Cultura che con l'assessorato della cultura svolge un proficuo e intenso lavoro in piena sinergia. Un saluto particolare al dirigente, il dottor Carlo Di Cesare perché sta un po' sbarordando tutti da questa mutazione per altri diversi, da occuparsi delle situazioni finanziarie, contabili molto rigide a occuparsi di cultura, cultura, ecco noiose, ma emerge tutta la professionalità, occuparsi di un segmento che è quello della cultura, probabilmente per compensare i dolori delle finanze che piangono, anche lui diamo un po' un sorriso portandolo nella cultura e cercando di catturare insieme allo staff, agli assessori e consiglieri comunali, quell'input per cercare di dare e raggiungere soprattutto un livello della qualità della vita a Foggia che deve raggiungere in fondo le capacità nascoste che detiene questa città. Foggia è una città bella dobbiamo semplicemente rivalutarla e la dobbiamo rivalutare con queste iniziative, dobbiamo cercare con queste iniziative incrementando sempre il segmento della cultura al fine di far accrescere, non solo il senso rispetto alla cultura ma dobbiamo far accrescere ai nostri cittadini la consapevolezza per Foggia e Bella e dobbiamo fargli accrescere l'amore nei confronti della città, il senso di appartenenza e con il senso di appartenenza probabilmente riusciamo anche ad abbattere quei muri di insensibilità che noi viviamo quotidianamente con atti vandalici, con segnali di incidità e quindi con la cultura noi dobbiamo cercare di scuotere queste coscienze. Quindi penso di aver detto tutto e io voglio darvi questa anteprima che non sta nel programma così come abbiamo fatto l'anno scorso che grazie alla collaborazione della Regione che ha manifestato almeno con intenzione ma dobbiamo vedere se in pratica mettono le somme adeguate così come è stato per l'anno scorso il 15 di agosto con Renzo Alpore proprio per abbracciare una fascia considerevole di persone penso che Albano sia una persona che possa portare il 15 di agosto non solo dei numeri considerevoli ma soprattutto possa rinfrescare la torbida serata estiva del 15 di agosto. è un artista internazionale che porta probabilmente c'è qualcuno che piace e qualcuno che non piace ma penso che noi dobbiamo guardare come ho detto prima a quelle che le persone che il 15 di agosto rimangono a Foggia la maggior parte dei giovani almeno io quando ero giovane il 15 di agosto non sono stato mai a Foggia e quindi dobbiamo coprire questa fascia di queste persone che rimangono a Foggia e fra i vari artisti abbiamo ritenuto che Albano potesse ingrociare come si dice in economia l'offerta e la domanda quindi penso che Albano possa essere quell'artista che possa portare io mi auguro i stessi numeri che abbiamo portato l'anno scorso con Renzo Alpore sto cercando di mettermi in contatto con Albano perché devo dire che con questa interlocuzione con questa interlocuzione devo ringraziare un caro amico che ci ha dato una mano anche nel contenere un po' i costi che l'amico Matteo Latone lo voglio dire perché ha fatto di tutto per cercare di far spostare Albano che aveva altri interessi in altri paesi Pronto? Maestro sono il sindaco di Foggia io sto annunciando bene sto annunciando qui in conferenza stampa la sua venuta a Foggia il 15 di agosto posso permettermi di metterla in viva voce in modo tale che la stampa può ascoltare la sua voce? Grazie grazie buongiorno buongiorno tutto bene? tutto bene tutto bene ok noi siamo pronti qui abbiamo i giornalisti magari c'è qualche domanda da parte loro vediamo un po' se se si presenti noi siamo si si allora chi inizia? chi inizia? forza viene da solo? ho accompagnato dalla di presentarvi prima se fate la bella gazzetta del mezzogiorno viene da solo? allora maestro maestro viene da solo a Foggia? non ho capito viene da solo a Foggia? non so che si vuole domanda quanto gli adulti e quanto si apriva ma posso no 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 d'occhio penso pronto? ero a mano della cartelletta Foggia con grande gioia e con me ci sarà tutto il gruppo formato da tra i polizzi una minoritista grande pianista un compositore altrimenti dice Paoletti poi c'è la batteria della Zaletti ha solo il suo posto va bene ha tristato ma abbiamo capito Maria Angela Mariani te le dà una la prima volta che insomma vede questa città come la intende questa prima questo primo concetto? lo intendo pieno di pieno di energia in questo caso polese pieno di di avvenimenti che succederanno e soprattutto orecchie sempre felise perché sarà un grande spettacolo ma non dovrei chiedere io questo e sai che e sai che noi qui abbiamo un tifo fortissimo lei ha seguito gli ultimi fatti calcistici? ma io col calcio ho preso le distanze semplicemente perché non sopporto tutto ciò che non c'entra niente col calcio quindi le gratuite violenze e i camion sbaccati e i denti rotti e questi che si mirano lo sport dove essere come fonte di energia purita è solo quello e quando succedono mi vengono lontano da questo tipo di esperimenti maestro lei è sempre un ambasciatore della Puglia nel mondo quanto è bello esserlo e quanto è bello esserlo qui a Foggia? ma ne faccio tutto con una naturalezza che mi è congeniale nel senso sono pugliese sono partito come tantissimi negli anni primi anni 60 nel 61 e come tanti con la breccia carica di differenze carica di voglia di fare carica di esportare in qualche modo anche quel senso di pugliesità che ci appartiene quindi questo ambasciatore è importante come termine ambasciatore però come esponente della Puglia senz'altro si e lo faccio da 30 anni al punto tale che ho abbandonato di vista tipo Milano e tipo Roma per venirmene in questa meravigliosa terra e che me la godo come ogni volta che torno qua è come se fosse sempre Natale Maestro sono sempre il sindaco di Foggia io la ringrazio a nome dell'intera città che ho l'onore e l'onore di rappresentare la ringrazio per aver accettato di venire qui a Foggia il 15 agosto nella festa patronale della nostra città quindi sono convintissimo che potrà regalare ai foggiani un immenso sorriso grazie per questa disponibilità e ci vediamo presto va bene va bene grazie 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 alla regina della cultura sindaco tu non mi puoi dire queste cose prima che io prenda la parola perché poi mi emozione non vado avanti buongiorno buongiorno a tutti grazie come sempre per essere stati così numerosi grazie sindaco grazie Antonio Vigiano presidente della commissione grazie al dottor Carlo di Cesare lo dobbiamo dire sindaco ha interrotto le vacanze per raggiungerci in conferenza stampa potenza della squadra quella che tu formasti due anni fa e che continua ad andare avanti non solo nell'ottica della squadra ma nella grande famiglia perché noi ormai ci intendiamo così sindaco in apertura di conferenza stampa ha pronunciato tre parole che io dico sono parole chiave e le prendo a prestito e le faccio mie rilanciare rafforzare e rallegrare ecco ha fotografato come sempre benissimo quello che poi l'intendimento di questo cartellone che noi chiamiamo foggia estate va proprio in quella direzione regalare a chi come sottolineava poc'anzi Fran Golandella dei momenti di serenità di svago perché in città si resta per i motivi più disparati deve essere anche un piacere rimanere rafforzare sì rafforzare un legame con il territorio perché noi diciamo sempre che dobbiamo andare alla riscoperta adesso lo sottolineava anche Albano che Loris ha definito un po' l'ambasciatore della Puglia nel mondo per cui rafforzare sì il legame con la nostra terra vivendolo anche in estate perché poi mi perdonerete ma io considero l'estate è una stagione ma probabilmente è uno stato dell'anima per cui c'è questa voglia di stare più all'aperto c'è questa voglia di passare quelle belle serate d'estate in compagnia per cui il foggio estate può servire e deve servire anche a questo rilanciare diceva il sindaco sì l'immagine di una città che spesso e non lo sto inventando io peraltro mai di fronte alla stampa balza agli onori della cronaca non sempre per fatti piacevoli e noi continuiamo a sottolineare che a fronte di episodi che in realtà non ci rappresentano perché i foggiani sono ben altro e se lo dice una foggiana di adozione che si è legata così tanto a questa città e perché ho avuto gli occhi e quindi